Con propria ordinanza numero 247, il sindaco di Favara, Rosario Manganella, ha revocato in data 12 dicembre la precedente ordinanza, la numero 219 del 30 ottobre 2014, con la quale vietava tutti i sabato, domeniche e festivi dalle ore 21 alle ore 2 del giorno successivo il transito veicolare in Piazza Cavour. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che via Umberto è stata chiusa al traffico veicolare a seguito del parziale crollo di una parte dell'asse stradale. Quindi da ieri non vige più alcuna ordinanza di istituzione di isola pedonale nella principale piazza cittadina. Quanto verificatosi nella serata di sabato scorso in piazza con il blitz delle forze dell'ordine e di cui noi vi avevamo dato comunicazione giorno 8, ha probabilmente fatto capire al primo cittadino che qualcosa bisognava modificare a questa ordinanza. Due potevano essere le scelte, dare la possibilità a quanti provenivano da via Matteotti di poter percorrere l'intera via Umberto a salire e quindi uscire da via Vittorio Emanuele, oppure revocare completamente l'ordinanza di chiusura della piazza nelle ore serali. Il sindaco evidentemente ha preferito scegliere la seconda opzione.